Dopo il presidente della regione Luciano D'Alfonso, altri tre rappresentanti della giunta regionale risultano indagati. Si tratta degli assessori Silvio Paolucci, Marinella Sclocco e Dino Pepe, coinvolti nell'ambito di un quarto filone appena emerso nell'ampia inchiesta coordinata dalla procura della Repubblica dell'Aquila che vuole vederci chiaro su alcuni appalti gestiti dalla regione Abruzzo. Quarto filone che riguarda i lavori di riqualificazione del parco comunale Villa delle Rose a Lanciano. I tre assessori sono indagati per falso ideologico per aver partecipato alla riunione dell'esecutivo e votato alla delibera della giunta abruzzese numero 367 del 3 giugno 2016 relativa proprio al parco Villa delle Rose. Su questo stesso fronte sono indagate altre sei persone. L'inchiesta coordinata dal PM Antonietta Picardi e condotta dai carabinieri del NOE e dalla squadra mobile di Pescara promette ancora sviluppi a breve. L'appalto sul parco di Lanciano è tuttora in corso e ha un valore di 1,5 milioni di euro, 1,2 assicurati dalla regione e 300 mila stanziati dall'amministrazione comunale. Due giorni fa gli investigatori sono tornati a Palazzo Silone all'Aquila per sequestrare alcuni documenti tra cui la suddetta delibera. Il quadro generale delle indagini si fa sempre più complesso. Sono 27 gli indagati per corruzione, abuso d'ufficio e turbativa d'asta tra cui funzionari regionali, professionisti, imprenditori oltre al presidente della regione e i tre assessori. I tre precedenti filoni già emersi la scorsa settimana sono quelli relativi alla ristrutturazione post terremoto di Palazzo Centi all'Aquila e i due del pescarese per cui risulta indagato il governatore D'Alfonso, uno inerente preventivi di spesa per la manutenzione di immobili a terra a Pescara, l'altro interventi previsti dal masterplan per il comune di Letto Manoppello. D'Alfonso che sarà difeso dagli avvocati Giuliano Milia e Antonio Valentini. Intanto già in questa settimana prenderanno il via gli interrogatori. Domani davanti allo sostituto procuratore Antonietta Picardi si presenterà l'imprenditore Mauro Pellegrini della impresa Dipe difeso dall'avvocato Massimo Carosi. È indagato nell'ambito della gara per la ricostruzione di Palazzo Centi, poi toccherà ad altri indagati oltre che persone informate sui fatti.